Ma che stai a fare? I figli nostri, no, devono mangiare il sedano, le carote, ma come ti viene? Almeno mangiano qualcosa di... Pensi funziona o no? L'acqua tiepida proprio. No. Pensavo ci... Hai ragione tu, non lo so. Nonno. Hai ragione tu. Non voglio fare gara a Chiri. Ma come ti viene, scusa? Si mette le mie scarpe, poi... ...i vestiti di mia madre, eh? È un bambino sensibile, tutto qua. La pittura dovrebbe avere una vita almeno un po' simile alle cose che scrive. Invece io guarda dove io. Giocattoli.